Molte volte da tanti professionisti vi sarà stato spiegato il vostro dolore con una semplice diagnosi, artrosi. Semplicemente avevate mal di schiena e l'ortopedico vi avrà detto qui c'è una spondilartrosi, ho problemi al ginocchio, qui c'è una bella artrosi di ginocchio avanzata e da questo è causato il tuo dolore. Ecco c'è un errore in questo, a questo punto dovreste rigirare la domanda e chiedere perché allora non ho dolore a questo ginocchio da vent'anni? Perché l'ossoartrosi è un processo quasi fisiologico che accade di degenerazione, che accade a carico delle cartilagini articolari. Ci sono molteplici motivazioni per cui accade questo processo, ci sono motivi ormonali, biomeccanici, di sovraccarico nelle attività sportive e lavorative, ma questo è un processo che nella stragrande maggioranza dei casi inizia già verso il 34esimo, 35esimo anno di età e in alcuni casi anche prima. Perché quindi non avete dolore dal 30esimo, 34esimo anno di età e poi si sviluppa di colpo, non so, a 60, 70 anni? La realtà è semplicemente questa. L'ossoartrosi di per sé non può causare dolore perché le cartilagini articolari, ebbene sì vi do una notizia sorprendente che sanno tutti, in realtà, è che le cartilagini articolari non sono innervate, ok? Quindi non potete provare dolore per l'ossoartrosi, altrimenti nasceremmo quasi col dolore e moriremmo col dolore se la cartilagini articolare fosse innervata, perché al minimo movimento, un po' più, diciamo, sovraccaricante, più brusco, avremmo dolore, sempre, a prescindere dall'artrosi. Quindi la cartilagini articolare non è innervata. Ciò che invece può accadere è che in un'artrosi, gli osseofiti, che sono delle strutture simili, diciamo, a schegge di vetro, cartilagine che si formano con l'artrosi, vanno ad irritare una o più strutture sensibili al dolore. Ad esempio può essere una capsula articolare, può essere un legamento, e quindi c'è, in seguito a questo, c'è infiammazione, può esserci versamento articolare, può esserci dolore. Quindi ciò che si deve andare a placare è l'infiammazione. Se questa infiammazione è associata ad un'instabilità articolare dovuta ad artrosi, si deve andare a compiere esercizio terapeutico di stabilizzazione dell'articolazione attraverso l'attivazione di specifici muscoli, semplicemente questo. Come strumenti passivi di contenzione si può usare, quindi contenitivi nel breve termine, ginocchiere, strutture, dipende poi dall'articolazione, panciere e così via, bussini e così via, che vanno a stabilizzare l'articolazione in acuto. Semplicemente si può fare questo, l'ortopedico, il medico, chi per lui possono prescrivere, non il fisioterapista, perché il fisioterapista può e deve soltanto occuparsi di mobilizzazioni, manipolazioni, esercizio terapeutico, terapia strumentale, diagnosi funzionale, cioè andare a valutare quali sono i gruppi muscolari deficitarie o le articolazioni in disfunzione. Quindi l'ortopedico e il medico possono prescrivervi un antinfiammatorio e così via in acuto. Però nessuno può dirvi che il dolore è causato dall'artrosi, perché siccome l'artrosi non si risolve, significa che dovete avere dolore a vita. Detto questo, c'è da dire che ci sono maratoniti con severa osse artrosi che ogni anno vanno a farsi la maratona di New York, quindi hanno le cartilaggini del ginocchio completamente assottigliate, non hanno dolore. La dimostrazione di quello che sto dicendo è che in letteratura è risaputo. Perché è un errore grande da parte degli ortopedici e dei medici o dei fisioterapisti dire al paziente hai dolore per l'osse artrosi? Perché vanno a far crocinicizzare il dolore del paziente, il paziente si sente fragile, inizia a dire non posso muovermi, l'assenza di movimento causa ulteriore dolore, e si va avanti in questo modo qui. Altra bufala è che siccome la cartilaggini è degenerata dovete muovervi il meno possibile o non caricarla. Si è visto negli studi che diciamo andare a fornire leggero carico sull'articolazione favorisce parziali guarigioni della cartilaggini stessa attraverso l'interposizione di tessuto connettivo e facilita una maggiore lubrificazione, cioè una maggiore riproduzione di liquido sinoviale che aiuta l'ambiente, il microambiente a guarire. Quindi tutto il contrario di quello che vi dicono. Un tempo gli ortopedici negli anni 70-80 dicevano mamma mia inizia ad avere osse artrosi al ginocchio, non salire e scendere le scale. Tutte scemenze. Oggi la letteratura ha dimostrato questo. Quindi fisioterapisti, medici, ortopedici, chiropratici, osteopati, che vi dicono che a causa dell'artrosi non dovete limitare la vostra attività stupidaggini. Semplicemente questo. Queste sono un po' di bufale che ho smascherato sull'osteo artrosi. Ciao ciao!